Nella biblioteca comunale di Serra, il 29 aprile, i giovani soci del Club Kairos della Cassa Rurale Artigiana di Battipaglia hanno tenuto un incontro formativo dal titolo Cellulari Intelligenti I primi passi, un'occasione per analizzare le regole basilari per approcciarsi alle più moderne tecnologie telefoniche. Davanti a un'assemblea incuriosita hanno dimostrato il funzionamento di alcuni social e di alcune applicazioni di tendenza, ma anche come facilitarsi la vita, prenotando la fila alle poste o un biglietto del treno, o come acquistare online, senza dimenticare la sicurezza dei dati. Interessante è la parentesi sull'app Il Socio e sull'app Relax Banking, che consente di eseguire operazioni sugli smartphone, evitando così lunghe code agli sportelli. Un incontro realizzato con il Comune di Serra ed ancora una volta un'importante iniziativa della Cassa Rurale e dei suoi giovani soci che risponde con prontezza alle istanze avanzate da alcuni membri della compagine sociale, proprio durante le officine soci nel territorio degli Alburni, che avevano chiesto appunto la possibilità di formazione in tale ambito.